SILENTO 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 Let match a squadre. Annientate chiunque vi separi davanti. Ok. Il nostro U2 è in golo. 1-2 nemico in arrivo. Stiamo vincendo! U-2 disponibile. Il nostro U-2 è in volo. Stiamo perdendo! Bombardamento NAPA, nemico in arrivo. Il nemico disturba il nostro radar. U-2 disponibile. Il nemico sta disturbando i radar. Hanno distrutto il tuo equipaggiamento. Approvvigionamenti pronti per la consegna. Disegnate il punto di lancio. Stiamo arrivando il nuovo magazine. Stiamo vincendo! U-2 nemico in volo. Stiamo perdendo! Il nostro U-2 è in volo. Covre alleato in arrivo. A in pronto. Attenti! R-C-XD nemico individuato. A in pronto. U-2 nemico in volo. A in disponibile. Approvvigionamenti alleati in avvicinamento. Il nostro U-2 è in volo. A in di in avvicinamento. Torretta SAM nemica in arrivo. Il nostro SR-71 è in volo. Stiamo vincendo. Il nostro U-2 è in volo. Il nostro U-2 è in volo. Approvvigionamenti pronti per la consegna. Indicateci la destinazione. Approvvigionamenti alleati in arrivo. U-2 nemico in volo. U-2 alleato in arrivo. La vittoria è vicina. Continuate a lottare. Bombardamento NAPA. L'unico nemico in avvicinamento. Il nostro U-2 è in volo. Il nostro contrattacco U-2 è in volo. U2 pronto. A ogni vittoria il nemico ci teme di più. A ogni vittoria il nemico ci teme di più. A ogni vittoria il nemico ci teme di più. A ogni vittoria il nemico ci teme di più. A ogni vittoria il nemico ci teme di più.